Ci spiega nel dettaglio questo progetto della FIV che è qui in corso al circolo crotonese? In questi giorni è presente il caravan di New Generation Foil Academy creato dalla Federazione Italiana Vela e che sta girando tutto il territorio nazionale per presentare il presente della vela, non più il futuro, che è il foil. Questa vela volante che nel 2024 in Francia farà da protagonista quindi chiaramente anche noi della Calabria e della Basilicata vogliamo attrezzarci perché i nostri giovani possono essere messi nelle condizioni di poter conoscere che cos'è il foil grazie appunto alla presenza dei tecnici nazionali inviati dalla Federazione Italiana Vela e dai tecnici della Sesta Zona che contemporaneamente stanno facendo un aggiornamento sul nostro territorio.